Sì, come già preannunciato nella discussione generale, questo ordine del giorno chiede alla Sindaca, alla Giunta, di avviare uno studio approfondito sugli indici di saturazione per la somministrazione di alimenti e bevande dei rioni e dei quartieri della città di Roma al fine di valutare se disporre il blocco previsto all'articolo 14,1 già all'interno del sito UNESCO. Quindi consapevoli che questo studio ufficiale oggi non esiste, noi chiediamo comunque agli uffici di portarlo avanti e di darne attuazione appena possibile. Grazie.